Quasi 11.000 migranti tratti in salvo negli ultimi due giorni, tre neonati venuti alla luce durante la navigazione, decine di cadaveri recuperati, una sola nave, la Libra, che ha sbarcato ad Augusta in Sicilia un migliaio di persone. Sono i numeri di un'emergenza che non accenna a diminuire e non lo farà probabilmente nemmeno dopo che l'Unione Europea ha attivato un nuovo corpo di guardia coste, perché è comunque un budget ridicolo rispetto ad esempio a quello degli Stati Uniti, che spendono ogni anno circa 3 miliardi di dollari per gestire l'immigrazione. I numeri, soprattutto italiani, invece sono sconvolgenti, le strutture di accoglienza sono al collasso e i soccorsi sono oberati di lavoro e non riescono a rispondere a tutte le richieste di aiuto. Sempre questo giovedì quasi 1.300 migranti sono sbarcati in Sardegna, li trasporta una nave, battente e bandiera spagnola.